buonasera a tutti e benvenuti nella mia quarta guida dove spiego come poter fare entrare la gente nel vostro server prima di tutto ci serve la macchina aperta con i 4 operation time and out o 7 o 8 o abbastanza di funzioni poi ama e loro si dovranno connettere ad amaci alle vostre reti in questo modo vedi vedete queste le ho create io perchè ho già un mio server ma se tipo voi siete degli utenti faranno così partecipa a rete e metteranno tipo per esempio e poi la password la password che c'è ed entreranno vedete io sono già membro della rete perchè se no si è rientrato e mi sarei fottuto connettere al server eeeh eeeh poi ci servirà sempre aperto che va sempre tenuto aperto perchè se no perchè mentre voi state giocando o facendo modifiche al server poterla così la gente si può registrare senza chiedervi nulla eeeh 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 ci servirà un programma lo si chiama portmap il link del download è nella registrazione e anche il link del download di xamp eeeh portmap sono due semplici file ricordate che non potete mettere questo senza avere questo a fianco nella sua cartella portmap fa sbloccare le porte perchè anche se voi avete amace aperto questo qui aperto e il server aperto e loro cercheranno di entrare e gli darà che il server errore di collegamento al server oppure server down dipende quindi voi dovete aprire portmap eeeh questa cosa la dovete fare solo una volta dovete cliccare di lì e modificate eeeh l'ip delle porte e mettete il vostro ip con il sito finale in tutte quante quindi con questa con quella con quella poi dopo l'avete configurata dovete fare play poi un errore che mi era successo una volta che erano diventate tutte davanti rosse e il problema succede quando ne avete già un altro aperto e vi siete dimenticati che c'era già aperto quindi ricordate che example eeeh si example portmap se cliccate qui si toglie quindi dovete cliccare qui eeeh in questo modo la gente si potrà connettere al vostro server eeeh gli utenti tutti quanti basta e poi si registreranno al sito come avevo spiegato quindi infatti adesso se proviamo a entrare funziona solo che vabbè poi vi spiego un'altra cosa importante eeeh anzi alla prossima alla prossima guida ciao a tutti